Continua nella zona industriale di Ascoli la continua defezione, il periodo di crisi, gli ultimi fatti parlano ancora di posti di lavoro persi alla Manoli. Andrea Quaglietti, com'è la situazione? La situazione in questo momento stiamo vagliando una serie di proposte da parte dell'azienda che comunque ha annunciato un piano di investimento per rilanciare una parte di questo stabilimento ormai molto misero. La cosa che ci lascia un po' perplessi è il fatto che in questo investimento ci sono anche dei licenziamenti. A livello sindacale non possiamo ammettere assolutamente che in un'azienda, una delle poche, che da 1200 dipendenti oggi si trova ad un numero di 150 dipendenti, continua questa delocalizzazione verso l'estero, però investe e continua a licenziare. Quindi abbiamo chiesto di fare una riflessione alla proprietà e trasformare innanzitutto questa procedura di mobilità in cassa integrazione in modo che si possano verificare tra un anno o due gli sviluppi di questi investimenti che loro mettono in campo, in modo da poter ricoinvolgere i 100 dipendenti che attualmente ha annunciato di essere in esubero. Noi ci auguriamo invece che questo progetto possa portare la ricollocazione di tutti quanti in questo settore oil, marine e gas che vorrebbe sviluppare sul territorio e magari la non perdita di posti di lavoro. Sembra un film già visto altre volte in questi ultimi anni ad Ascoli Piceno, a quel punto l'occhio va un po' sulle istituzioni che dovrebbero essere importanti in situazioni come questa. Secondo me le istituzioni sono in ritardo perché questa crisi in questo territorio che ha prodotto più di 20.000 disoccupati sul posto è in ritardo e doveva muoversi quantomeno intorno al 2008-2009 per avere il riconoscimento del territorio come grande territorio di stato di crisi. Ci auguriamo che a breve, la Regione sappiamo che si incontra il 28 di questo mese, a breve ci sia questo passo in avanti per il riconoscimento di uno stato di crisi avanzato in modo da sbloccare quei fondi necessari per agevolare gli investimenti sul territorio e le aziende in difficoltà in modo da poter tornare veramente a discutere di investimenti, assunzioni e certamente di rilanciare l'economia in questo territorio.